Sarà l'esame autoptico a stabilire con precisione la causa del decesso di Cherubina Benedetti, la donna di 86 anni sparita nel nulla nel pomeriggio di sabato 6 dicembre dopo essere uscita dalla sua casa a Montecatini per andare a gettare la spazzatura e trovata morta ieri pomeriggio nell'area della stazione centrale di Montecatini. La donna si era allontanata sabato pomeriggio dalla sua abitazione della città termale dove vive con la figlia per andare a gettare alcuni sacchetti di rifiuti in un cassonetto. Poi era scomparsa, le unità cinofile avevano percorso la strada che presumibilmente aveva fatto l'anziana ma i cani si erano fermati nei pressi di una pensilina della fermata dei bus. Ieri il ritrovamento del corpo senza vita della donna lo ha scoperto un autista dei bus che ha notato il cadavere in una zona dismessa e poco frequentata della stazione. Accanto al corpo sono stati trovati sacchetti vuoti della spazzatura che l'anziana aveva utilizzato per svuotare nel cassonetto le ramaglie della potatura degli alberi del giardino di casa e che poi si era portata con sé. I carabinieri escludono al momento segni di violenza e pensano che la donna si sia persa e abbia cominciato a vagare senza più trovare la via di casa.